Favorire la spinta delle imprese agroalimentari abruzzesi per imporsi nei mercati interni ed esteri, fare sistema per dare slancio al territorio in modo da recuperare il lungo e grave periodo di crisi dovuto alla pandemia. E' lo spirito con cui è nato il protocollo d'intesa firmato tra Camera di Commercio di Chieti Pescara e Assessorato Regionale d'Agricoltura per lo sviluppo della competitività di un comparto decisivo per l'economia regionale. Basti pensare che le imprese agroalimentari tra Chieti e Pescara sono oltre 16.000. Presidente, visto il periodo particolare dell'emergenza sanitaria, su cosa punta questo protocollo d'intesa? Quali sono i punti forti? Allora, intanto puntiamo in futuro ad organizzare fiere, specialistiche, workshop, l'internazionalizzazione perché non è difficile produrre, è difficile vendere. Per cui bisogna che ci attrezziamo, aiutiamo i nostri agricoltori, le nostre imprese agricole ad avere più mercato. Ente strumentale della Camera di Commercio, l'Agenzia di Sviluppo. Sentiamo il Vice Presidente, Marco Belisario. L'internazionalizzazione secondo me è uno dei punti più assolutamente necessari oggi per poter, come dire, continuare a sperare per il futuro perché oggi la situazione è quella che è, la situazione pandemica ci ha un pochino relegati, ma non solo a noi, però chiaramente bisogna far sì che questa situazione si superi proprio, ripeto quello che dicevo prima, attraverso questo tipo di progetti e magari mettendosi anche insieme, creando le aggregazioni giuste. Come dire, il protocollo rappresenta un'azione di rilancio nuova e importante, come conferma l'assessore Imprudente. Una grande novità, per questo ringrazio la Camera di Commercio e il sistema camerale. È una novità assoluta perché iniziamo a mettere insieme enti, strategie, funzioni, quelle che potranno essere le disponibilità e le nuove idee che verranno. Parallelamente a questo c'è un'azione che il Governo regionale, specifico il Dipartimento dell'Azienda Agricoltura sta mettendo in piedi con dei risultati anche importanti, proprio oggi ad esempio parte il sistema di informatizzazione dell'Uma. Che cos'è l'Uma? È il sistema per dare il gasolio agricolo al mondo agricolo. Nel 2020 si informatizza un qualcosa che probabilmente dovesse fatto vent'anni fa. Parallelamente a questo è proprio di qualche giorno fa, abbiamo raggiunto il target per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi comunitari del PSR per le aziende agricole con risultati importanti, un surplus di 7 milioni. Stiamo cercando di far crescere un sistema che ha oggettivamente delle difficoltà, che ha molta burocrazia e quindi speriamo di poter semplificare anche quello che dovrà essere la procedura per quello che sarà il nuovo PSR.